Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Flavio e oggi parliamo di Magic, ma prima di iniziare mi raccomando lasciate un like al video e iscrivetevi al canale, ma soprattutto passate dall'Instagram di Fabio Focale Fissa che è uno degli artisti che al momento mi piace di più in Magic the Gathering, lui si sbatte per creare dei token pazzeschi tipo quelli che vedete di fianco alla mia faccia che mi hanno fatto impazzire e voglio ringraziarlo proprio per lo sforzo che fa perché secondo me sono una cosa incredibile, quindi se anche voi come me avete dei problemi per questo piccolo feticismo per i token del vostro mazzo ma non solo, li volete avere proprio tutti, vi giuro che è proprio il caso di andare a guardare il suo profilo Instagram e contattarlo per ricevere anche voi questi token che sono incredibili. e siamo tornati con gli AU2, incredibile, una cosa che non pensavo mai più di fare ma ben tornati qui, spero di aver fatto tutto giusto, tra l'altro non so, vabbè non sono sicurissimo comunque oggi parliamo del mazzo che ha vinto il Power Pergeddon Winter Edition 2023 da poco ma magari più avanti sarà sempre lui che ha vinto il Winter Edition. Vabbè parliamo di Altartron ragazzi che è il mazzo che avrei voluto tanto portare al Power Pergeddon ma poi mi sono lasciato convincere da una scelta di cuore e non di testa. Che cos'è Altartron? Altartron è un combo in buona sostanza che si basa sul creare una quantità di mana che definirei infinita e poi ha delle chiusure di cui adesso andremo a parlare ma in buona sostanza è quello che secondo me attualmente è il combo più performante del formato superando anche Familiar che chi mi conosce sa io adoro ma in questo momento proprio non ce la fa mentre Altartron sembra essere wow incredibile, pazzesco. Andiamo a vedere un po' come è costruito questo mazzo che tutti gli amanti di combo dovrebbero provare a giocare. Allora partiamo dalla mana base, giochiamo il 4x di tutte le terre di Urza perché giustamente il mazzo si chiama Altartron quindi una delle prime due parti del mazzo sono le terre di Urza quindi tanto mana uguale molto molto bello noi giochiamo il 4x di tutte le terre di Urza poi andremo a vedere come tutorarle perché comunque come diceva un piccolo shout out al Bojuka Pod come sempre nel loro episodio 13 con l'intervista a Matteo Mazzola che è il ragazzo che effettivamente ha vinto il power per ghetto con questo mazzo come diceva proprio Matteo dopo che fai 7 mana con 3 terre tutte le carte che tiri sembrano essere molto molto più forti, non posso che accodarmi a questo ragionamento, effettivamente io le terre di trono le odio ma per giocare questo mazzo ci andrei proprio a nozzissime senza problemi. poi giochiamo 1 per di landa, io ho messo Polluted Mire ma in realtà la landa ciclabile a costo 2 ci sono nel ciclo di Urza Saga proprio una serie di landa ciclabile a costo 2 tendenzialmente si va a giocare la Polluted Mire che è quella nera che è il nostro colore principale del mazzo ma si può giocare anche quella verde di cui purtroppo al momento mi scappa il nome è comoda perché è una landa tappata e non è pazzesca ma ci da nero e all'occorrenza è una pescata tutorabile di vari tutori che abbiamo, mi viene in mente principalmente Expedition Map quindi alla peggio diciamo che è una landa, è una delle poche utility land che abbiamo anzi forse una delle poche utility land, l'unica che si gioca in qualsiasi lista mettiamola così perché adesso vediamo quali sono le altre utility land che ci sono nel mazzo però questa carta è immancabile poi abbiamo l'altra utility land che non è sempre presente ma io consiglio di giocare da quando ho iniziato a giocarla effettivamente il mazzo ha cominciato a performare decisamente meglio ovvero Honten Fengraf che è una terra che si è sempre giocata nelle strategie Tron Based ma in questa ci dà la possibilità di avere una Recursion tutorabile sempre con mappa della spedizione perché lei è una terra che dà un incolore che quindi va bene con il resto del piano del mazzo nel senso non ci dà troppi problemi che sia in colore ma ha anche un'abilità molto carina ovvero pagando 3 e tappando anche lei sacrificandola possiamo riprendere in mano una creatura casuale dal cimitero in questo mazzo giochiamo due tipi di creature main deck anche post side cambia veramente poco quindi tendenzialmente andremo a riprenderci un pezzo che è stato counterato piuttosto che è stato rimosso in un momento in cui magari o ha ci han bloccato nel momento in cui non ci si arriva particolarmente che stesse a terra per farci scombare comunque utility land molto molto forte poi abbiamo dagli 1 ai 3 slot che vanno per il Crystal Grotto che è una di quelle terre che ha subito diciamo in power per di più il power creep perché è una terra che filtra il mana tappando lei un altro mana ma in più ci fa scry quando entra quindi è molto interessante che il power creep ci ha dato una mano in questo caso e da ricordarsi ad esempio che lo scry 1 della sua abilità è un trigger quindi magari in risposta a quello possiamo decidere di fare delle cose ad esempio io ho in campo una mine una power plant e appoggio Crystal Grotto mi serve chiudere trono perché poi avrò un altro tipo di fixing o magari ho giù delle stelle che mi possono aiutare a farlo quindi in risposta al suo scry prendo verde con la sua abilità sacco di crop rotation vado a tutorarmi la landa di trono che mi servirà e così non mi brucio lo scry per il turno dopo e avrò la possibilità comunque di avere trono questa cosa si può fare sia diciamo con questo piuttosto che con la ricerca di mappa ma in generale lo scry è un ottimo effetto è anche comodo andare a tutorare nel momento in cui abbiamo magari fluddato un pochino e abbiamo crop rotation in mano per poterci fare scry sulla pescata successiva e fare una leggerissima manipolazione del mazzo che è qualcosina non è tantissimo ma è qualcosina e poi abbiamo le basiche qb nel senso che dipendentemente da quanti slot andiamo a dare a cristal grotto abbiamo un numero di basiche che si possono andare a inserire nel mazzo tendenzialmente va dalle 1 alle 2 e si differenziano tra l'essere monopalude doppia palude o palude foresta o anche monoforesta in realtà monoforesta nella lista che giocava appunto Matteo Mazzola una lista che non gioca pezzi non gioca basiche nere diciamo giocava soltanto la monoforesta molto basata su Ensign Steerings dato che anche la sua chiusura era totalmente colorless in ogni caso ci sono altre liste online che giocano sia la swamp sia la foresta andando a tagliare un cristal grotto oppure giocano monoswamp doppio cristal grotto di base è questo diciamo che non essendoci più cleansing wildfire nel formato la presenza di una basica rispetto a due basi che non è così problematica dal punto di vista delle lande indubbiamente lavorare con un mana piuttosto che due cioè uno e uno filtrato da cristal grotto quindi tapparci via un mana è più snello quindi ci rende un po' più veloce la situazione bisogna capire se ci piace di più avere quello scry o avere la possibilità di avere interazioni a costo basso il land count totale di solito è tra le 17 e le 18 terre io vado più per le 18 per avere un minimo di consistenza per almeno fare i primi due land drop e avere dato che abbiamo un buon numero di tutori un tutore che va da recuperarmi la terza però di base questo è quello su cui si può andare a girare per la mana base la mia mana base base ideale sarebbe attualmente anzi che sto giocando è composta da 12 per delle terze di urza una maire una fengraf una swamp quindi 4 8 12 14 2 16 no 2 grotto e 2 swamp no 2 grotto e una foresta e una swamp sto provando quella cosa e stiamo giocando a 18 lande poi parliamo dei drop a uno che ci sono nel mazzo che sono molto molto interessanti sono variabili ci sono dei punti fissi come le stelle cromatiche che sono ottime perché ci danno la possibilità di fare praticamente ancestral e call con deadly dispute ovvero se noi facciamo deadly dispute su stella cromatica andiamo a guadagnare una pescata di stella cromatica più due pescate di deadly dispute e il tutto l'abbiamo fatto praticamente a umana perché dispute indietro ci dà un tesoro quindi praticamente abbiamo fatto pesca 3 a umana che mi sembra una figata oltre a questo chiaramente ci serve anche la sua abilità di fixing poi abbiamo dalle 2 alle 4 che è come sto giocando io in realtà altrimenti quindi 4 chiaramente ho preso l'impronta della lista che ha vinto il power gathon prima ne giocavo 3 mi sembra sfere cromatiche tra l'altro sacrificare sfera cromatica per pescare una carta non passa dalla pila quindi ricordatevi questa cosa e la sua abilità per la pescata funziona solamente con la sua cioè scusatemi il pescare con lei funziona solamente con la sua abilità quindi se la sacchiamo per qualsiasi altro motivo che abbiamo nel mazzo come mi viene a mente ad esempio deadly dispute come abbiamo detto poco fa o reckoner's bargain in realtà non andrete a pescare una figurina aggiuntiva ma ne pescherete solamente due e farete un tesoro che comunque va bene ma non è così bello come farlo con chromatic star poi abbiamo dalle 1 alle 3 con jules bubble presenti nel mazzo io sono partito da giocarne tante perché giocavo eggs sono sceso a giocarne 0 in questo momento ma 1 per non mi sembra così esagerato da giocare è un artefatto molto interessante un drop a 1 che ci dice sacrificala metti fino a una carta dal tuo cimitero in fondo al tuo grimorio pesca una carta perché è una carta interessante dipende dalla shell che andate a giocare in questo momento nella shell diciamo colorless totale non è pazzesca nelle shell più colorate che ho visto in realtà è una carta che ha degli utilizzi oltre al solo peschino piuttosto che metterci sotto per salvarci da qualche effetto strano una carta che abbiamo al cimitero in quel momento però può essere una cosa tipo ci salva un mir retriever se il nostro oppo mentre stiamo scombando ci fa fatina possiamo rimettercelo sotto e andarlo a riprendere con mir kingsmith ad esempio mi viene in mente però attualmente si vede poco si può non giocare se si gioca secondo me superare le due copie in questo momento storico è un po me e poi giocare eggs cioè giocarla in più copie ci porta a giocare un altro tipo di mazzo che però in questo momento mi sembra molto meno performante di altartron diciamo tra le versioni combo e poi ultimo la mia carta cuore terrarion terrarion in realtà io l'ho messo in 1 o 2 per da giocare ma in realtà secondo me si può anche andare a tagliare è un terrarion in una stella cromatica che ci ha creduto un po' di meno un drop a 1 che è intratappato sacrifichiamo pagando 2 cioè paghiamo 2 sacrifichiamo aggiunge 2 mana in ogni combinazione di colori nel nostro mana pool quindi possiamo fixare leggermente meglio a un mana aggiuntivo e anche lui quando viene messo nel cimitero dal gioco in qualsiasi modo quindi come stella cromatica noi peschiamo una carta quindi in buona sostanza è un'altra copia di ancestral che ci rende disponibile la giocata di ancestral recall però è molto meno forte degli altri perché tendenzialmente è intratappato quindi ha un po' di sfighe diciamo che ora le liste stock stanno giocando 4x stelline e 4x sferette per avere del buon mana fixing a un costo inferiore rispetto a quello di terrarion o comunque avere un effetto utile rispetto a conjurance bubble e poi abbiamo gli ultimi drop a 1 qua ci ho messo anche crop rotation perché chiaramente abbiamo due cose che fanno più o meno la stessa cosa nel senso che expedition map è il drop a 1 che vogliamo fare per andare a chiudere trono o fixarci il mana crop rotation è più o meno la stessa cosa nel senso che ci serve come dicevo prima per andarci a prendere il mana e o per fare delle cose un po' diverse tipo andarci a prendere un fengraf instant per salvarci dal cimitero una creatura piuttosto che andarci a prendere cristal grotto per vedere di raddrizzare una pescata che magari è importante oddio ho spostato tutto spero che mi vediate ancora per vedere di fixarci un pochettino la pescata insomma fa delle cose diverse due carte molto interessanti la lista del gaddon prendo sempre quella come esempio scusatemi ma è quella che attualmente è chiaramente più famosa non ne gioca io non riesco a giocare liste senza crop rotation quindi sono sceso a una per aprire degli slot che volevo provare ma tendenzialmente se ne possono giocare fino a due copie senza sentirsi assolutamente in colpa secondo me è una cosa che ci può stare per chiudere trono tra l'altro io ho bisogno di andare a cercarmi le figurine chiedendo all'oppo scusa posso cercarle perché se no non faccio un cazzo sta partita lui mi dice di sì io sbaglio anche a cercarle e non chiudo trono quindi crop rotation mi serve per recuperare su quell'errore facciamo così poi come funziona diciamo qual è il core del mazzo effettivo per andare a scombare ci servono nel mazzo ci serve avere quattro copie di mir retriever che è una creatura che quando è stata da un gradata comune ho detto questi sono testi ma comunque li ringrazio molto è un drop a due uno uno è un mir retriever è un mir che dice quando lui muore ritorna un altro artefatto targettandolo dal cimitero alla mano quindi ci permette di fare della recursion dal nostro cimitero quattro copie di ash nod altar carta anche lei comune perché non lo so ma va molto bene un drop a tre che ci dice sacrifica una creatura aggiungi due di mana e già qua state capendo come funziona e golem foundry in realtà golem foundry non è strettamente essenziale per alcune delle combo che adesso andiamo a vedere quando vi spiegherò come funzionano ma è una carta molto interessante perché comunque ci permette di prendere tempo ci permette di giocare un game plan leggermente più mid range andando a fare dei blocchi ci permette di fare delle cose interessanti con ash nod altar quindi queste carte sono essenziali nel numero che vedete quindi mir sicuramente 4x le altre due carte possono variare dai 3 ai 4x tendenzialmente io gioco 3 per altari ma la lista del ghetto ne gioca 4 e 4 per golem foundry ne giocavo 3 prima sono salita 4 dato che giocavo la quarta di side ma la side davo spessissimo quindi ho detto ok no va bene ci può stare e soprattutto è una carta che anche senza le altre due vuoi vedere per tirare i tuoi sassettini dalla mano e far triggerare far mettere i segnalini e permettere di mettere golem perché la sua abilità giusto non ve l'ho detto è un drop a 3 che entra e non fa niente ma dice quando casti un artefatto metti un segnalino carica sulla golem foundry scarica 3 segnalini carica e metti un 3-3 golem sul campo di battaglia quindi ci permette di avere dei blocchi ok adesso parliamo un po' di peschini che è una parte essenziale per un combo deck abbiamo ancestral recall del formato 4 per è indiscutibile deadly disput ci serve per ogni cosa possibile come abbiamo visto prima ci sono dei peschini già dei drop a 1 che ci permettono di fare paga 1 pesca 3 carte che già mi sembra una roba incredibile come il retriever ci permette di saccarlo magari dopo aver fatto un blocco o per toglierlo da un removal insomma una roba così e andarci a recuperare un pezzo dal cimitero quindi non fa effettivamente ancestral recall perché non ci fa pescare 3 ma in realtà ci fa pescare 3 lo stesso perché recuperiamo il pezzo che vogliamo anzi forse meglio perché ci fa scegliere la carta che vogliamo quindi tanta tanta roba essenziale da avere nel mazzo se non ce l'avete potete provare a giocare Reconers Bargain ma secondo me è solo una carta sostitutiva fin tanto che non andate a trovare deadly dispute o meglio ci sono delle liste anche io le ho giocate che giocano 4 per deadly dispute è un numero che varia da 2 a 4 Reconers Bargain ma l'effetto di guadagnare vite è molto meno impattante in questo mazzo dell'effetto di avere un mana aggiuntivo quindi dovendo scegliere sceglierò sempre deadly dispute Reconers Bargain in questo momento del meta non è così impattante nemmeno contro i mazzi dove vogliamo andare a guadagnare vite perché non abbiamo dei drop alti come Affinity che si sacrifica i Mi Reinforcer quindi non guadagniamo nemmeno un Bolt tendenzialmente o al massimo un Bolt perdendo una carta che per noi è molto molto interessante mi sembra soltanto un filler poi abbiamo dalle 2 alle 4 copie di Core Wellspring alcune liste di Sidian Raken hanno tagliato totalmente i Core Wellspring in favore della carta che vedremo dopo che è Energy Refractor ma perché giocano più colori tra main e side quindi questa carta è un ottimo fermacarte come vi dico ma serve anche tantissimo per fare le Ancestral Recall perché comunque pesca potenzialmente questa carta potenzialmente ci pesca 4 carte e il tutto costa farlo 3 mana quindi è un buono scambio a livello di mana per noi è un drop che possiamo fare senza che ci dia troppi problemi perché comunque al secondo turno vogliamo avere un buon numero di drop da andare a fare se non facciamo terra mappa vogliamo comunque avere a disposizione sia Refractor che Wellspring che si ciclano per andare un po' più deep nel mazzo se è sempre giocata tanto da quando c'è Deadly Dispute è illegale averne in casa meno di 4 quindi poi io adesso ne sto giocando 3 però tendenzialmente dalle 2 alle 4 copie va sempre bene poi abbiamo Energy Refractor che varia il numero di copie dai 2 ai 4 ok perché questo? come vi dicevo prima se giochiamo una lista strettamente o colorless o anche jand main deck perché il jand del main deck rosso è dato solamente da makeshift munitions normalmente e il verde è dato da Steerings e Weather The Storm se giochiamo una versione jand così light sui colori possiamo anche permetterci di giocarne 2 possiamo stare più tranquilli magari giocandone 3 tagliando unicore Wellspring per avere sempre comunque la curva settata in quella maniera ma la disponibilità di avere il colore più frequentemente le liste di 6 di Rakian come dicevo ne giocano 4 a discapito degli core Westling questa cosa non mi fa impazzire perché Refractor in quelle liste è molto importante e andarci a sacrificare di Deadly Dispute fa schifo ma non sempre abbiamo degli artefatti disponibili per essere saccati però ci serve andare a pescare poi rimarremo con un solo mana colorato e poi siamo un po' più sensibili ai dust to dust sulle nostre fonti colorate piuttosto che Revoke Existence e questa cosa un pochettino mi preoccupa se devo dire io onestamente gioco delle liste leggermente meno colorate mettiamola così per stare un po' più sereno e quindi in questo momento sto giocando doppio Energy Refractor in realtà lo gioco da quando ho preso in mano il mazzo senza troppi problemi e poi abbiamo la grande faida di sempre che è Fateless Looting contro Ancient Steerings perché c'è questa faida Ancient Steerings è chiaramente una carta molto bella che dice guarda le prime 5 carte del tuo mazzo rivela una carta colorless 3S le terre sono colorless mi sembra che lo dica proprio no non lo dice ok le terre vi ricordo che sono permanenti colorless rivela una carta colorless e aggiungila alla tua mano quindi guarda 5, scegli la più bella e tienila che problema ha? ha il problema che noi giochiamo una chiusura che si chiama Weather the Storm che contro il 90% dei mazzi che c'è nel formato se riusciamo ad andare a vita infinite dopo vedremo come è praticamente una partita vinta perché difficilmente poi potremo mai morire contro Fateless Looting che ci dà la possibilità di scegliere quali scegliere 2 tra le carte che abbiamo tra le mani e tra la ciuma del nostro mazzo ne scegliamo 2 e ne buttiamo 2 che magari non ci sono molto interessanti perché il suo effetto è pesca 2 e scarta 2 con flashback a costo 3 al cimitero mentre tirarla dalla mano costa 1 mana effettivo quale sfiga ha questa cosa? Steering si sostituisce Fateless Looting dalla mano fa svantaggio carte quindi è meno interessante Steering va più deep per cercarci magari i pezzi di trono soprattutto se giocate una lista senza le crop rotation quindi con pochi tutori per avere le terre di trono anche se i tutori migliori sono questi pescata la terra che mi mancava Steering si ci dà la possibilità di andare a trovarci vedendo più carte o Mir Retriever o Mir Kingsmith che ci possono dare la possibilità di scombare Fateless Looting ci permette di tenere in mano anche carte come Deadly Dispute piuttosto che Weather the Storm o Makeshift Munitions nel caso la giochiamo main deck io adesso sto giocando a Steering mi sono un po' accodato a tutti quelli che stanno giocando il mazzo quantomeno in Italia perché vedo che ad esempio Siding continua a giocare Fateless Looting credo che sia soltanto cioè io valuto più alta una carta come Steering ma non credo sia un errore dare lo spazio anche a Fateless Looting soprattutto se giocate una versione che magari leggermente più mid range e non totalmente all in nella combo e magari avete scelto di dedicare degli slot a Mystical Teachings o qualcosa di simile può starci andare a giocare Fateless Looting io onestamente non lo faccio, l'ho giocato ma adesso non lo sto più facendo preferisco stare su Ensign Steering poi ecco qua finalmente parliamo della combo che è proprio il core del mazzo come funziona la combo? per scombare noi abbiamo bisogno di doppio Mir Retriever adesso ve la dico così poi dopo c'è anche un punto in cui va bene anche un Mir Kingsmith noi abbiamo bisogno di doppio Mir Retriever che si continua a saccare con l'abilità di Ashnod Altar questa cosa cosa vuol dire? noi abbiamo un Mir Retriever, lo giochiamo a due lo sacchiamo con Ashnod Altar prendiamo l'altro Mir Retriever che magari abbiamo già il cimitero o lo abbiamo in mano lo facciamo sacchiamo il secondo Mir Retriever riprendiamo il primo e via così col loop questo cosa genera? infiniti Mir Retriever non è vero cioè in realtà infiniti cast di Mir Retriever senza che i Mir Retriever siano infiniti e questo loop si può attivare anche con l'entrata nel formato di Mir Kingsmith avendo a disposizione credo 6 mana in tutto 4 li uso per tirare Kingsmith mi tutora Mir Retriever sacco Mir Kingsmith vado a 4 mana faccio Mir Retriever a 2 mana sacco Mir Retriever torno a 4 prendo Mir Kingsmith lo faccio finisco il mana torno a un altro Mir Retriever sacco ho 2 mana e posso iniziare il loop quindi con 6 mana tutto questo la parte di Mir doppio Mir Retriever è sostituibile con anche solo un Mir Kingsmith senza troppi problemi tutto questo genererà comunque infiniti cast di Mir Retriever che ci danno adito a apriamo un po' lo schermo su quello che succede con Infiniti Mir Retriever più Ashon Daldrard già in campo per fare gli Infiniti Mir Retriever e una Golem Foundry abbiamo a disposizione infinito mana con un S-Infiniti Golem perché noi a un certo punto continueremo a mettere segnalini sulla Golem Foundry ogni volta che castiamo Mir Retriever gli metteremo un segnalino quindi potenzialmente abbiamo infiniti segnalini questa è la prima chiusura del nostro mazzo infinito mana colorless perché potremmo iniziare a saccare anche i Golem facciamone un miliardo ne sacchiamo 120 abbiamo comunque 240 mana in colore così comodi, veloci si sa mai possono essere utili a qualche cosa quindi questa è la prima chiusura del mazzo ovvero faccio 2 milioni di trigger di Mir Retriever passo poi quando stai passando il turno indietro scarico tutti i segnalini da Golem Foundry e avrò nel mio turno un Infinita un numero definito ma molto molto alto perché Infinita tendenzialmente non esiste in Magico non si può cioè deve esserci sempre un dato quantificabile avrò una marea di Golem 3-3 pronti ad attaccarti super super incazzati ma cosa succede se noi a questo turno a questo disagio creato al nostro avversario con Golem Foundry più Ashenod Altar andiamo ad aggiungere un Energy Refractor in campo o un effetto di Fix con Energy Refractor in particolare ah no scusate piccola nota a margine mi ero scordato questa cosa della combo Infinita di Infiniti Golem scusatemi di Infinito Mana Colorless si può fare anche con Foundry Inspector infatti in alcune liste l'ho visto giocare come quinto e sesto drop a 6 per andare a creare Infinito Mana Colorless in questo caso senza in campo nessun fixing perché? perché Foundry Inspector è un drop a 3 che sconta il cast di tutti gli altri artefatti di 1 quindi noi a 1 faremo Mirror Retriever saccheremo per 2 mana prenderemo il Mirror Retriever che abbiamo al cimitero e come avete capito aggiungiamo un mana ad ogni ripetizione di questa cosa non ci porterà ad avere la chiusura di Golem Infiniti perché non abbiamo niente da caricare ma tutte le altre chiusure si io in particolare non gioco Foundry Inspector dopo averlo anche provato quindi diciamo che mi son buttato anche su quella lista per capire come funzionasse ma il fatto che Foundry Inspector sia un 3-2 che stia sotto la maggior parte dei removal del formato essendo un drop a 3 e insomma non essendo non avendo 4 dietro sta sotto Bolt sta sotto Galvanica Scarica sta sotto Castdown sta sotto Snuff Out sta sotto una botta di removal ho deciso di andare a tagliarlo ma questo giro si può fare anche con questo drop a 3 quindi era giusto per doveri cronaca dirvelo tutti i giri che faremo col mana ma non con i Golem possiamo farli anche con Foundry Inspector tutti i giri che faremo con i Golem non possiamo andare a farli con cioè quindi la combat diciamo una chiusura di combat non si può andare con Foundry Inspector senza Golem Foundry ecco qua quando abbiamo Infinity Golem mana colorato perché abbiamo Refractor o comunque qualcosina che ci basti e ascendo da Altar abbiamo la possibilità di avere delle chiusure diverse nel mazzo allora vediamo un po' ci basta una stellina una sferetta o un fixing tipo Crystal Grotto stappato per avere Infinity Golem e grazie ai trigger del cast di Mirretelive e infinite vite con Wither the Storm che come vi dicevo è una chiusura rispetto a tantissimi mazzi del formato non pensate solo a Bolt ma pensate a tutti i mazzi che non sono Fogtron Turbo Fog Turbo Infect piuttosto che Infect mi viene in mente ah si un Mirror dove però il nostro avversario non gioca Makeshift Munitions ma in deck che è il motivo per cui io lo gioco in realtà e basta non mi viene in mente nient'altro ma se vi viene in mente di qualcosa ditemelo poi abbiamo l'accesso a Makeshift Munitions che è un drop a 2 che ci dice spaga 1 sacrifica un artefatto o una creatura noi possiamo sacrificare i Golem che sono artefatti e creatura quindi fantastico e spara un danno dove vuoi quindi dopo aver fatto 140 miliardi 600 milioni 320 mila Golem ne sacchiamo 100 mila per fare del mana e poi possiamo cominciare a saccare gli altri per sparare con Makeshift Munitions il nostro avversario ma se vogliamo anche tutti gli altri avversari che ci sono nella sala perché con quel numero di Golem perché essere così tirchi lanciamoci su tutti per farci odiare contemporaneamente da noi dal nostro avversario dagli avversari dei nostri avversari dagli avversari che avremo come prossimi avversari insomma da un po' tutti poi abbiamo anche Blood Fountain che è un artefatto fantastico secondo me che io gioco in 1 per che è un artefatto nero a costo 1 di Crimson Wo credo che dice quando entra crea un Blood Token e vabbè già lì è carino perché comunque ci dà la possibilità di ciclare una carta brutta a 4 e sacrificando lei sacrificala fai tornare due creature dal cimitero alla mano quindi questa cosa ci dà la possibilità avendo del mana infinito di poter andare a ciclare il nostro mazzo per cercare una chiusura perché perché noi abbiamo Mir Retriever che aspettate questa l'ho fatta milioni di volte ma spiegarla è sempre complicata noi facciamo Mir Retriever abbiamo il loop di doppio Mir Retriever a un certo punto abbiamo Blood Fountain fixiamo facciamo Blood Fountain con il mana che abbiamo infinito riusciamo a saccare il Blood Token per andare a cercare una carta migliore non la troviamo sacchiamo anche il secondo Mir Retriever avendo tantissimo mana infinito li abbiamo tutti e due al cimitero o perché abbiamo voluto riprendere una stellina per fixare o qualcosa del genere non lo so sacchiamo Blood Fountain fixando il mana grazie a grotto stellina una qualsiasi cosa riprendiamo doppio Mir Retriever facciamo che in campo abbiamo Energy Refractor che tutto ci viene più facile quindi col mana che ci dà Energy Refractor fixandolo due mana in uno attiviamo Blood Fountain riprendiamo doppio Mir Retriever faccio Mir Retriever numero uno sacco riprendo Blood Fountain faccio Mir Retriever numero due posso cominciare a riciclare tutto il giro di Retriever con Blood Fountain però se la faccio posso fare un Blood Token quindi questo ci dà un'altra pescata e così via quindi a quel punto avremo di nuovo doppio Mir Retriever al cimitero Blood Fountain in campo fixiamo il mana prendiamo doppio Mir Retriever facciamo Mir Retriever facciamo quel cazzo che vogliamo tipo Blood Fountain rifaccio col Token e così abbiamo Blood Token infiniti avendo mana infinito e la possibilità di ciclarci il mazzo per cercare ad esempio Makeshift Munition e Weather the Storm tutto questo richiede che ci sia in campo Golem Foundry ma se vogliamo vincere sullo spot e non dalla combat o perché magari non possiamo vincere con la combat perché abbiamo beccato uno dei mazzi che abbiamo detto prima quindi Turbo Fog che ha sicuramente una Fog in mano piuttosto che possiamo farcela senza troppi problemi le alternative che vedete nelle liste online sono chiaramente peggiori delle chiusure che vi ho detto io adesso ma servono perché perché il mazzo online è come posso dire una spina nel fianco per essere politically correct da giocare perché è veramente un sacco click intensive la gente online tendenzialmente tende che brutta cosa spesse volte ciao Andrea la gente online tende a non concedere quando noi abbiamo dimostrato un loop perché vuole vincere col tempo quindi cosa facciamo andiamo a giocare delle carte che triggerano senza bisogno di targettare il nostro avversario e quindi che ci diano un click in meno ma che tendono ad andare a ucciderlo abbastanza rapidamente quindi abbiamo reckless fireweaver che è una creatura drop a 2 di kaladesh che dice quando un artefatto entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo ogni avversario perde un punto vita no scusatemi fa un danno ad ogni avversario e impact tremors che è praticamente la stessa cosa ma versione non creatura che dice quando una creatura entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo questa carta fa un danno ad ogni avversario perché è quasi la stessa cosa perché comunque noi stiamo vincendo con golem foundry caricata di segnal in infiniti quindi scarichiamo e sono sia artefatti che creature non abbiamo nessun tipo di problema queste carte sono molto peggiori in real chiaramente rispetto a tutte le altre chiusure che abbiamo visto poco fa perché tendenzialmente cioè sono makeshift ad esempio è un impact tremors che ci ha creduto di più nel momento in cui abbiamo mano infinita abbiamo la possibilità di andare a sparare comunque tutti i danni che vogliamo in faccia al nostro avversario ma nel momento in cui dovesse essere meno il bordo diciamo dovesse essere da gestire perché magari siamo contro Kogate avere in campo makeshift munition invece di avere in campo impact tremor se permetterci di sparare non so una stella cromatica su un gattino che si sta per pompare piuttosto che potrebbe essere abbastanza importante diciamo che comunque queste sono soluzioni relegate a MTGO che non consiglio di giocare in real anche se avete delle liste che le giocano sostituitele con makeshift se volete con la chiusura tagliatele se invece pensate di essere in un meta in cui fog o fogtron non sia o comunque effetti fog non siano presenti e quindi potete tranquillamente farne a meno poi abbiamo una diatriba che va avanti nel mio cuore più che nelle scelte dei mazzi in realtà qualcuno l'ho visto ancora giocare mystical teachings ovvero i tutori diciamo Mirkinsmith contro mystical teachings Mirkinsmith è una carta che non si può tagliare dal mazzo il più è capire quanto leggo gli appunti per vedere se è stato qualcosa no 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 ho fatto tutto sono incredibile sono stato bravissimo allora Mirkinsmith è una carta che non si può andare a tagliare dal mazzo assolutamente perché come detto da sola con in campo chiaramente Ashenodaltern ci permette di tutorare le parti di combo che ci servono e soprattutto poi tuttora anche post side un pezzo molto importante che tra poco andremo a vedere allora scusatemi quindi perché Mirkinsmith o perché mystical teachings che comunque giocherei in uno per dipende tutto da come state montando il mazzo da che feeling avete nel giocare un mazzo totalmente combo o con delle parti midrange diciamo che si setta anche per giocare dei matchup come midrange e non più solo come combo vediamo un po' Mirkinsmith ha dalla sua di essere molto buono devo metterle davanti le carte che ci sono non fa niente adesso vi dico essere molto buono nelle partite dove c'è nei mazzi dove c'è Steerlings quindi il 4 per di Steerlings mi porta a giocare il 3 per tendenzialmente di Mirkinsmith che va a tutorarmi altri Mirkinsmith per giocare una partita dove voglio fare magari del beatdown con i miei 3-1 piuttosto che mi va a tutorare il Mirretriever come abbiamo visto per la combo ma non solo mi va a prendere quella carta coperta in posizione di difesa verde che voi non vedete ma vedete che è uno shapeshifter e dopo vi dirò nella side esattamente cos'è sono stato bravo però le ho messe così fa del mistero e invece Mystical Teachings ecco ho rovinato il mistero Masked Vandal era la carta ho sbagliato ragazzi e ho sbagliato Mystical Teachings invece ci permette di andare a giocare che cosa si gioca meglio nelle versioni con Faithless Looting perché chiaramente è un'altra carta colorata che andiamo a aggiungere al main deck è una carta a cui sono particolarmente legato non credo faccia più parte di questo archetipo credo che faccia parte di Eggs se vogliamo andare a giocare Eggs piuttosto che Altartron credo che sia fortissima in quel mazzo incredibile che è Fogtron che è per me uno dei mazzi più forti che c'è assolutamente sempre nel formato credo che sia incredibile in quel mazzo pazzesco che è sul Tai Teachings però non fa più parte di questo particolare archetipo detto che ci può andare a prendere magari noi abbiamo in campo la combo di mana infinito o comunque abbiamo abbastanza mana per farla possiamo andare a prenderci Weather the Storm mentre non possiamo tutorare Weather the Storm con la combo con il mazzo senza Mystical Teachings così magari mi viene in mente contro Burn contro Cool Dota Red siamo a 4 magari il nostro op ha in mano 2 c'è il Lightning noi non possiamo passare il turno ma se riusciamo ad avere abbastanza mana per fare Mystical Teachings in 2 Weather the Storm avremo vinto sicuramente la partita sono dei casi molto limite che mi vengono in mente chiaramente perché mi piace la carta poi ovviamente stiamo parlando di robe veramente le sottigliezze che non sempre vanno neanche prese tutte in considerazione altra carta che si può giocare in combo con questa però è un altro drop a 4 che fa un po' così è Frantic Salvage che ci permette di giocare una partita molto midrange soprattutto se giochiamo la versione con i Foundry Inspector che ci va a tutorare la diciamo tutti gli artefatti che abbiamo messo al cimitero permettendoci di looparli tutti di nuovo con la Foundry non avere token infiniti ma avere un'ottima quantità di token da fare sul passo piuttosto che andarci a pescare delle carte con i nostri token tendenzialmente si gioca la versione con Mirkin Smith perché è più solida rispetto a quella con Mystical Teaching Mystical Teachings come vi dicevo carta cuore ma se la vedete in qualche lista considerate di non andare a giocarla comunque perché non è proprio incredibile ultimo punto che vado a trattare è la Side che è una diciamo cosa molto interessante e molto personale quindi non vi darò dei piani di Side secondo me e non vi dirò come ho costruito la mia vi dirò perché vedete certe carte all'interno della Side e quando secondo me è giusto sai darle poi vedete voi Dures eccola qua allora Dures è una carta che nei mazzi combo in Pauper soprattutto ad esempio in Goblin Combo si gioca per proteggersi da eventuali counterspell e o removal in questo caso nel nostro caso principalmente da counterspell perché la nostra combo non soffre particolarmente i removal o comunque non soffre particolarmente i removal che non esigliano a livello a instant diciamo perché mi piace perché non mi piace è un'interazione a costo basso quindi è molto interessante da andare a inserire tra le nostre interazioni io tendo ad averle tutte a costo 1 o 2 non voglio averne di più alte e ci permette di avere perfette informazioni sulla mano del nostro avversario perché non mi piace perché ad esempio non toglie Fatina Macabra Fatta Macabra credo si chiami in italiano che è una carta che dice scartala dalla tua mano esiglia due carte bersaglio dal cintereo dell'avversario non permette di andare a prendere ad esempio i suoi mirretri cioè i pezzi creaturosi forti del nostro avversario non ci permette di andare a prendere spellstatter sprite a un numero di target che vorrei andare a prendere che non sono considerati quindi non mi fa particolarmente impazzire non credo che nel formato ci sia di meglio come disruption a livello di scartino quindi per adesso secondo me se volete giocare gli scartini è la scelta migliore che potete fare tra l'altro ci permette anche di fare di giocare un game plan un po' più mid range contro i match up dove se andiamo a risolvere una golem founder la partita è praticamente finita o comunque si tende a essere dalla nostra come ad esempio ubi terror facciamo scarto per togliere il counter e appoggiamo la golem founder per essere un po' più sereni poi abbiamo nil spellbomb o hate dal cimitero non giocate l'elico frugentius perché l'elico frugentius targetta anche il vostro cimitero nil spellbomb è una delle scelte migliori e più incredibili perché ci permette di togliere solo il cimitero dell'avversario e di pescare nel momento in cui viene messa dal cimitero questa cosa vuol dire questa cosa cosa vuol dire che se noi la sacchiamo per il suo effetto paghiamo nero e peschiamo in più però ci permette di sacrificarcela magari in risposta a un removal o in risposta a non lo so perché magari abbiamo un versai data quindi non sappiamo bene cosa farci in quel spot della partita di sacrificarla con deadly dispute pagare nero praticamente a 3 pescheremo 3 carte a 2 perché poi avremo indietro un tesoro pescheremo 3 carte non è ancestral recall ma può fare delle cose quindi ricordatevi per qualsiasi motivo lei finisca il cimitero dal campo di battaglia voi potete pagare nero e pescarci comunque una figurina poi abbiamo ancient grudge che è il rappresentante sorcery e instant per l'hate per gli artefatti quindi qua ci potete mettere anche wilt ci potete mettere anche natural scream e natural state ad esempio sono quelli che mi vengono in mente principalmente ci serve per andare a sidare contro affinity ci serve per andare a sidare contro il mirror ci serve per sidare contro l'hate che ci possono fare gli avversari quindi se voi pensate che loro abbiano dell'hate dal cimitero come relic of progenitors dato che la nostra combo chiaramente passa dal cimitero o nel spellbomb allora sidate ancient grudge per andare a proteggervi se è quello che volete andare a fare poi abbiamo musket vandal altra carta incredibile che abbiamo visto essere tutorabile da mir kinsmith perché è uno shapeshifter changeling quindi ha tutti i tipi di creatura e quindi non c'è problema potete andare a prendervelo cosa dice questo 1-3 drop a 2 di caldain changeling appunto quando entra nel campo di battaglia puoi esiliare una creatura dal tuo graveyard se lo fai esilia un artefatto un incantesimo target del tuo avversario quindi cosa vuol dire che noi targettiamo l'incantesimo che vogliamo andare a togliere l'artefatto che vogliamo andare a togliere ma non targettiamo la creatura che andiamo a mangiarci dal cimitero quindi cosa succede quando il suo trigger va in pila noi possiamo saccarcelo di ash node altar o deadly dispute o reckoner's bargain o in qualsiasi altro modo tipo makeshift munitions per saccare per andare a esiliare se stesso dal nostro cimitero successivamente abbiamo un altro hate per gli artefatti ma anche per gli x1 quindi va molto bene contro sia che ho detto prima per ancient grudge ma anche cool dota piuttosto che mi viene in mente co gates tutti i mazzi con degli x1 elfi che se qualcuno gioca a elfi vuole morire più del normale può prendersi anche questa sui denti cosa fa anche contro muri cosa fa questa carta non droppa due source di dominaria credo che dice distruggi un artefatto distruggi una creatura con difensore e fai un danno a tutte le creature che tu dopo controllano quindi molto interessante il fatto che abbiamo una risposta secca contro abbiamo un removal secco per i muri che tendenzialmente è un mazzo che wall combo va un turno più veloce di noi poi abbiamo carclan shaman sempre per contro tutti quelli che sciamano contro muri contro elfi contro white weenie contro sempre mi viene in mente il nostro amichevole co gates in tutte le sue versioni di colori occhio che però prende soltanto le creature senza volare quindi non uccide corsche e fischi e falchetti abbiamo poi degli slot secondo me da dedicare in questo momento a delle vrate a costo 3 action sono ben due nel formato abbiamo sia fire cannonade che breath weapon che a costo 3 instant ci permettono di fare danno a tutte le creature o non drago o non pirata scegliete voi cosa preferite se essere amici di capitano uncino o di tiamat in ogni caso questa carta molto molto interessante scattershot che invece si gioca soprattutto nella lista di 6 di raken l'ho visto giocare è una instant con storm e dice fa un danno a una creatura quindi contro fatine questa carta in realtà è molto forte se nel vostro meta c'è molta presenza di fatine preparatevi magari a fare un turno da 2-3 spell per poi chiudere la vostra combo o andare a appoggiare un pezzo che volete assolutamente che si risolva contro fatine se vi aspettate che lui abbia in mano spell starter sprite o lo sapete perché avete tirato una dures tenetevi scattershot in mano per poter far sì che al momento della risoluzione dell'abilità di spell starter sprite non ci siano in campo abbastanza fatine per counter una spell e il costo di mana che avete tirato poi abbiamo serenheart che questa è una delle mie carte di side preferite non la taglio praticamente mai distrugge tutti gli incantesimi ovvero aura perché aura ci frantuma e quindi abbiamo insieme a maschiette vandal la possibilità di andare a risolvere un po' di incantesimi tutti insieme abbiamo poi pyroblast che è uno slot di set che si vede molto molto poco io l'ho provata non mi fa impazzire ma credo che in certi momenti del meta sia buona tra l'altro è forte contro fatine contro terror e anche contro muri perché nel suo combo per andare a male infinito sono blu quindi direi che è buono mi è sempre piaciuta ci dà la possibilità di avere uno storm count in più rispetto a reb nel caso perché non deve essere per forza blu il permanente che andiamo a targettare ma deve essere blu per far sì che questa carta abbia effetto l'ho provata non è pazzesca avere dei counter essere reattivi ci costringe comunque a stare un turno indietro perché dobbiamo avere il mana anche per avere la risposta e poi magari il nostro avversario ha più risposte quindi pyro non riesce a prendere tutto ma in compenso prende spestatter sprite a un mana rispetto ai suoi due che spreca quindi è un po' tutto da valutare rispetto al meta che avete ma soprattutto non potete uscire di casa senza avere nella side 3 o 4 di questo simpatico amico Fangren Marauder è un drop a 6 5-5 quando l'artefatto è messo in un cimitero dal campo di battaglia quindi nostro o loro nel senso dei nostri avversari noi possiamo guadagnare 5 vite e questa carta è fantastica perché ci fa fare vite infinite post side con la combo senza passare da weather the storm contro affinity è un problemone per loro affinity è già un buon match up di base ma comunque questa carta di solito li fa concedere anche perché poi loro di side tendono a dare negate cose varie quindi noi possiamo andare a appoggiare Fangren Marauder contro bolt scusate contro botti se riusciamo ad andare ad appoggiarla nella seconda partita di solito ce la portiamo a casa questo è il motivo per cui avevo ancora delle difficoltà a smettere di giocare le congiure sbubble perché sono delle carte che si saccano in automata a zero noi possiamo fare turno 3 Fangren Marauder fixato intusa con una congiure sbubble metto sotto al mazzo chi se ne frega ho guadagnato 5 vite già la partita si è spostata perché ho fatto un 5-5 che comunque para anche tutto molto bene Monastery sweet spear per te solo le lame infam no questa era giusto una nota così a margine questo bene o male è al tartron e come funzionano le combo come si deve andare a costruire il mazzo se avete delle domande non fatela no scherzo scrivetemelo nei commenti e proverò a rispondervi detto che ci sono dei content creator tipo sai dirà che secondo me più esperti di me nel formato ma credo che ci sia la puntata di come dicevo numero 13 di BojukaPod se non lo conoscete vi lascio il link in descrizione della puntata dove Matteo Mazzola spiega bene molto bene delle cose molto meglio di quanto potrei fare io effettivamente ma lo gioca da più di me diamo gli addito di questa cosa diamoci addito di questa cosa e questo è tutto quindi sì se avete domande sono qua come sempre qua su Instagram su Twitter in social sono in descrizione su Twitter